Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo, siamo ancora insieme per portare avanti quasi diciamo la sua conclusione, forse avremo ancora un'altra sessione sulla serie La Lode, l'adorazione, anzi sulla Lode. Dopo parleremo come promesso del ruolo della musica e poi passeremo a parlare più propriamente della adorazione. Ma come avete sentito anche nelle volte passate i concetti di Lode, di adorazione sostanzialmente si intersecano in un atteggiamento del cuore e dell'uomo gioioso di fronte alla presenza del Signore grato a Lui mentre si avvicina a Lui con il cuore fiducioso di ricevere tutta la grazia che gli è necessaria per poter svolgere il suo incarico su questa terra. E l'adorazione poi come atto tangibile, visibile, poiché si sostanzia sempre di posizione, di posture proprio del corpo, anche l'adorazione consiste nel gettarsi a terra, faccia a terra, come segno di sottomissione e di rispetto, di reverenza verso il Re davanti al quale siamo comparsi. Si bene dunque questa serie, come vediamo, ci porta proprio nel cuore del rapporto intimo tra il credente e Dio. E cioè quando noi diciamo credente, ormai usiamo questa parola perché è conosciuta, si usa sempre, ma credente vuol dire colui che ha fiducia. Troverete con sorpresa anche che molte volte dove si usa speranza, parlo del Vecchio Testamento, riferendomi ai termini ebraici, laddove nei salmi spesso è detto speranza, la parola è sempre fiducia, atteggiamento fiducioso. Quindi insomma sta fiducia è così importante per il Signore ed è diciamo l'ingrediente fondamentale del rapporto intimo con Lui. Difatti Gesù ha sempre ribattuto su questo, la tua fiducia ti ha salvato, per la tua fiducia sei stata guarita, abbiate fiducia e tutto ciò che chiederete nel mio nome vi sarà dato. Insomma tutta una serie di affermazioni del Signore, addirittura ha detto che con la fiducia che Lui ci dà noi possiamo spostare le montagne che sono davanti a noi. Come vediamo è proprio il tema fondamentale e questa relazione che Lui e Gesù è venuto a ristabilire tra noi e il Padre si consolida, si connette e si consolida, ecco userò questi due termini, si connette e si consolida mediante lo Spirito Santo che viene dato a quelli che hanno fiducia in Gesù affinché possa il piano del Padre, la sua volontà per la persona che è su questa terra realizzarsi nella nostra dimensione. Dunque la lode e l'adorazione sono il nostro atteggiamento che teniamo nell'avvicinarsi alla presenza di Dio e nello stare alla sua presenza. Questo è niente di più. Come vedete non si tratta di quello che molti pensano che sia, forse per ignoranza o per cultura o per tradizione appunto, cioè bella musica, preliminari a predicazioni, riempitivi di momenti smorti, concerti. Va tutto, diciamo, per quanto riguarda i concerti e l'uso della musica va benissimo, ma la lode e l'adorazione sono lo stato del cuore di coloro che hanno fiducia verso il Signore nella relazione intima con Lui. Se la musica aiuta in questa relazione, ben ben, anzi come ci dirà poi Fabrizio mercoledì prossimo, la musica è uno strumento principe, o meglio principale, per poter coltivare questo nostro stato del cuore. Ma al di fuori di questo non possiamo far confusione. Ecco, ed è bene non farla. Vorrei a questo punto entrare in quello che è l'ultimo stato della lode. Stati abbiamo usato questa parola, lo ripeto, abbiamo visto vari stati della lode, dal todà allo yadà, poi che è soprattutto il ringraziamento per aver pescato la gratitudine in fondo al nostro cuore, si passa, quindi gratitudine e ringraziamento, si passa alla manifestazione gioiosa come nell'alleluia della gratitudine trovata e nell'approccio al re che viene con questa parola. All'al si traduce questo senso di gioiosa manifestazione di appartenenza al Signore, in sostanza. E poi abbiamo altri termini, shabak, per esempio, che vuol dire anche quasi accarezzare il Signore con le nostre lodi, con la nostra attribuzione a Lui dell'eccellenza. Ecco, quando si arriva a questo, siamo passati dalla gratitudine iniziale alla intimità, prima gioiosa e poi tenera, con il Signore che è il nostro re che viene ad incontrarci. non solo, non si ferma qui il Signore, nelle parole che ci dà nel Vecchio Testamento, Dio ha da sempre insegnato che una volta che sei in approccio alla Sua presenza, non solo gratitudine e tenerezza e esplosione gioiosa nella tua relazione con Lui, ma, diciamo, anche un grande rumore di voci festanti che attribuiscono l'eccellenza. Insisto su questo termine, attribuire l'eccellenza, dare la lode vuol dire come te, Signore, non c'è nessuno, sei grande, Signore. Ecco, l'eccellenza. O se dieci è il massimo, te sei la lode, l'eccellenza, di più. E questo si può fare anche, secondo quello che ci dice, in altri modi anche, proprio gridando il suo nome o facendo un rumore festoso con la bocca mentre si attribuiscono a Lui tutte le qualità e le caratteristiche di Colui che è eccellente al di sopra di ogni altro nome. E quindi abbiamo visto Rouat. Poi anche si può prendere uno strumento oppure battere le mani e usare la nostra voce come strumento per estendere quella lode che è già stata espressa, che è già nel nostro atteggiamento. E quindi, ecco, vediamo già da qui che gli strumenti, qualsiasi essi siano, sono tutti utili, ci servono per manifestare la lode che è già nel nostro cuore. E quindi quando noi suoniamo, non parlo di chi si mette qui con una tastiera per gli altri, anche, ma se no il pensiero va sempre solo a quello. La lode è un compito sacerdotale e regale insieme. E quindi i sacerdoti e di re che lodano il re dei re sono coloro che hanno fiducia nel re. E quindi non è solo uno che viene chiamato ministro di lode, che canta, suona e fa one man band per tutti e quindi tutti sono contenti e vanno a casa perché hanno sentito un po' un concerto. Non è questo il concetto di lode. La lode è un compito sacerdotale e regale insieme, laddove unendosi al Signore in uno stato intimo e di intima relazione, offriamo a Lui il sacrificio di lode, il nostro corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, affinché le cose accadano sulla terra e noi possiamo amministrare la sua grazia e farcene portatori verso tutti gli altri. Quindi compito sacerdotale, di connessione e regale, di attuazione e di esecuzione. Pensate un po' che tutto ha questa sintesi, è proprio nell'azione della lode. Quindi da questo suonare anche strumenti, Zemar che si dice in ebraico, si è visto anche un altro atteggiamento di lode che introduce alla durazione, chiamato Barak, era l'ultimo della volta scorsa, cioè che vuol dire letteralmente cadere in ginocchio, stare in ginocchio davanti al Signore, perché tutti gli altri atteggiamenti sono atteggiamenti festosi, gioiosi, di ringraziamento, teneri, intimi, mentre si si avvicina a questo incontro. Stiamo andando all'incontro quando, ecco, se siamo davanti a Lui, la prima cosa che uno può fare davanti a un re è inginocchiarsi, cadere in ginocchio a terra e iniziare a ascoltare quello che il re ha da dire, perché come dissi altre volte, è vero, una volta che siamo davanti al re, la cosa che tutti ci auguriamo di sentire è una parola del re a nostro favore, perché quando un re decreta quello diventa legge e se decreta a nostro favore noi portiamo a casa una legge ad personam per noi e insomma questo ci fa tanto piacere. A maggior ragione che il re ha già decretato a nostro favore, ha già emesso decreti di pace per tutti gli uomini, solo che ce ne appropriamo nel momento in cui noi entriamo alla Sua presenza e Lui si siede sulle nostre lodi, cioè sul Suo trono. Ecco, dunque, vedete quanto la lode e l'adorazione siano un concetto, uno stato del cuore molto, molto lontano e distante da quello solito. Per cui non è male parlare di una nuova cultura della lode e dell'adorazione. Io parlerei proprio di cultura, non solo di concetti o di principi, ma questa cultura deve passare. La lode non è fare rumore e basta. In alcuni momenti si può fare rumore perché esprimiamo uno stato del nostro cuore, ma c'è la gratitudine, la tenerezza, c'è l'ascolto, cioè è tutta una serie di atteggiamenti, di stati del nostro cuore rivolti verso Dio che lo andiamo a incontrare e lo incontriamo. Quando lo incontriamo stiamo alla Sua presenza. Ecco, consiste proprio in questo. Vedete, è proprio una cultura, un modo di essere e di comportarci. Tutto ciò che fa cultura è ciò che è, diciamo, in pratica, tradotto in pratica, è ciò che è normale come comportamento, modo di pensare e di sentire, delle persone che si riconoscono in una unità comunitaria, etnica, nazionale, religiosa. Fate voi come volete, ma insomma tutto ciò che tra di loro è normale, è una tradizione accettata, quindi un modo di pensare univoco tra di loro. Noi abbiamo parlato, abbiamo le serie sul nostro sito sulla cultura del Regno dei Cieli, che vuol dire che per noi la nostra filosofia di vita è l'insegnamento di Gesù. E quindi, se la nostra filosofia di vita è il suo insegnamento, ciò che lui dice, ciò che insegna, diventa la nostra cultura. Cioè, nel Regno dei Cieli ci si comporta, come Gesù ha detto e insegnato, perché è il nostro stile di vita ed è normalmente, in senso di norma, accettato da tutti noi perché facciamo parte del suo Regno e della nostra cultura comune. E quindi, nella nostra cultura di cittadini del Regno dei Cieli, la lode, l'adorazione ha un posto preminente. E possiamo iniziare proprio da qui, a cercare di conoscere la cultura del nostro paese. Il nostro paese, sì, noi siamo italiani, non tutti, alcuni, qui, proprio tra noi, ce ne sono alcuni che non sono italiani, e all'ascolto ugualmente, tanti anche dalla Slovacchia stanno ascoltando la traduzione simultanea che abbiamo sul nostro sito in Slovacco. In questo momento, ma che vuol dire? Che noi, sì, apparteniamo ad una nazione, ad uno Stato, fisicamente, geograficamente, politicamente, descritto su questa terra. Abbiamo una cittadinanza, io sono italiano, sono cittadino italiano, ma la mia vera cittadinanza è quella del cielo. Cioè, noi tutti, ciascuno di noi, veniamo dal cielo e poi apparteniamo a colui che ci ha creati e ci ha inviati su questa terra. Insomma, abbiamo come una doppia cittadinanza. Quando c'è il problema di un clash culturale, ora spero di spiegarmi in questo breve tempo, cioè, se la cultura del paese da cui vengo, che è il cielo, e al quale ora appartengo, perché ho creduto in Gesù Cristo e sono rientrato nel suo regno, nel paese di origine dal quale vengo, io comunque sono nel mondo, sono su questa terra, e il resto anche cittadino italiano. Se la mia cittadinanza italiana, la cultura italiana, fa clash, cioè, o crash, come volete, cioè si scontra con la cultura del regno dei cieli, dal quale vengo, Pietro stesso dice che è meglio obbedire a Dio che non agli uomini, e cioè, quando le due culture si dovessero scontrare, prevale la cultura del cielo. Perché il cielo, il regno di Dio, è un regno incrollabile. Quello degli uomini è soggetto a normale mutevolezza. Dunque, come ci dice la Bibbia, fissiamo il nostro sguardo là dove le cose non cambiano e dove, obbedendo al Messia, possiamo accumulare tesori, piuttosto che confidare nell'uomo e nelle cose della terra. Ecco, ho parlato un attimo di cultura e di rifarsi questa cultura, un po' rispolverarla, perché mi sa che è un po' sepolta proprio per noi cristiani. Allora, Tehillah è l'ultimo stato di lode a cui facciamo riferimento. L'ultimo perché? Perché se fai tutto il percorso che ho descritto lo puoi fare in modo dinamico, in successione e fa bene. Se invece ti trovi in uno stato di quelli che ho descritto senza essere passato dagli altri, fate uno stato del tuo cuore in quel momento e quindi gloria a Dio, coltivalo, esprimilo e presentati al Signore. Tehillah è uno di questi stati. Se siamo nel percorso sarebbe l'ultima fase a cui puoi arrivare prima di adorare, cioè di cadere faccia a terra e onorare la presenza del Rialtissimo. Che cos'è questo Tehillah? Vedete, il significato del Tehillah è questo. è una canzone che contiene una lode. Vuol dire anche glorificare. È un atto generale o pubblica lode e con il Tehillah si lodano, cioè si attribuisce l'eccellenza a qualità, azioni e attributi di Dio. Dare riconoscimento, fama e gloria. Uno potrà dire ma queste sono tutte cose che abbiamo visto anche negli altri stati della lode. Sì, ma in questo caso nel Tehillah queste qualità e questi attributi che si rivolgono a Dio pronunciandoli sono, diciamo, come vengono in modo dal profondo di noi stessi come se fossero pescati nel nostro spirito con un canto rivolto al re. Ecco, quindi la differenza può essere questa nella spontanea spiritualità del canto che esce dal più intimo spazio dentro di noi. È qualcosa che la peschiamo proprio dentro, proprio nel nostro intimo. Perché? Perché l'intimità è ristabilita e quindi non abbiamo difese. Non dobbiamo difenderci da questo re potente che è il Signore, ogni potente. Non abbiamo da aggredirlo perché non sia così ogni potente con noi né dobbiamo aspettarci che lui sia in un modo un po' diverso dal nostro, da quello che noi pensiamo. Ebbene, quindi viene spontaneo nell'intimità della relazione più profonda. Il Tehillah è dunque come un fiume che scorre ed esce. Scorre da dove? Dal nostro spirito. È quello che spesso nella Bibbia è chiamato cantico spirituale. Cioè non è il Tehillah, non è quella che si prende un salmo. Ora io qui ho un salmo, il salmo 18. Mi viene... Ecco, ti amo, Signore, mia forza. Tutti più volte lo abbiamo declamato. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, eccetera. Se io mi metto a cantare questo, abbiamo visto che l'abbiamo fatto più volte nell'ambito degli altri stati della Lode. Per esempio nel Todà, che è il primo, ecco sappiamo che i sacerdoti quando iniziavano il turno di Lode rivolgevano parole o inni. Probabilmente i salmi erano stati scritti proprio per questo, per rivolgere questi inni al Signore. Il Tehillah, che poi vuol dire salmo, il libro dei salmi è il libro del Tehillah, ma è qualcosa, perché allora sgorgava naturale, Davide gli stava scrivendo come testi che poi venivano usati testi per inni, ma per lui erano canti spirituali che uscivano cioè dal suo spirito come degli inediti. Parlo in un linguaggio molto moderno rispetto al tempo di Davide, ma ecco il Tehillah è una canzone inedita che esce dal nostro spirito. Chissà, voi troverete sul nostro sito tutti i canti di Fabrizio e di Angela, che sono, ecco io sono testimone e molti di quelli che sono qui in sala altrettanto, sono tutti sgorgati in modo naturale, spontaneo, sono composti da Fabrizio con la collaborazione anche di Angela per le melodie e se escono, sono usciti da loro in modo naturale pescando nel loro spirito come inediti canti spirituali al Signore. Quindi, ecco, probabilmente per alcuni che li riprendono, altri possono già essere considerati degli inni, cioè leggono le parole e le ridicono, va bene? Ma il canto spirituale è quello che proprio esce da te come uno sgorgale di un fiume in piena che esce. Il Tehillah canta l'eccellenza di Dio, vedete, è un cantico spirituale, è un cantico o canto nuovo appunto, inedito, che Dio ti dà come parole e come melodia. sono quei canti vedete nella slide che risiedono in te, quei canti naturali che provengono da una fonte sopranaturale che è in te. È un canto nuovo in sostanza. Noi ci chiamiamo canto nuovo proprio per questo motivo perché questo canto che sgorgava fin dall'inizio della nostra avventura con il Signore dal nostro spirito rivolgendosi a lui era un canto inedito, un canto nuovo che non si era mai sentito né sulle nostre labbra né poi erano canti che venivano così sentiti da altri e poi rifatti era un canto nuovo. Come parole si usavano le parole dei salmi spesso della Bibbia ma come messe in un modo nuovo con una melodia nuova che era un inno di per sé non nel senso tecnico ma un omaggio al Signore. Guardate nel Salmo 40 troviamo Egli ha messo nella mia bocca un canto nuovo cioè un tehillah al nostro Dio. Vedete canto nuovo vuol dire tehillah cioè il modo di lodare Dio. Cos'è che ha messo sulla nostra bocca? Io sto parlando non come se fossi uno di coloro che sta parlando nel Salmo ecco il personaggio del Salmo ha messo sulla mia bocca un canto nuovo è vero ma io mi sto riferendo anche alla nostra esperienza come fondatore del canto nuovo noi possiamo oggi dire che Dio ha messo fin dall'inizio nella nostra bocca un canto nuovo cioè un tehillah una lode al nostro Dio e molti dice vedranno questo che cosa? Vedranno che sulla nostra bocca è stato messo un tehillah un canto nuovo di lode al Signore e quando lo vedranno temeranno chi? Noi no Dio e confideranno in Lui vedete il canto nuovo suscita il timor di Dio e il confidare in Lui che è il Re Sovrano perché? Perché il canto nuovo sgorga quando sei alla presenza del Re Supremo del Signore al Salmo 22 troviamo ma tu sei santo tu che siedi o che abiti le lodi cioè i tehillah di Israele allora che cosa succede? Guardate voglio fare una cosa un po' figurata è pratico ci aiuta allora succede che nel processo del lodare il Signore dalla gratitudine alla tenerezza all'esuberanza gioiosa e festosa alla musica e al grido del nome grande di Dio al momento intimo dell'inginocchiarsi a terra e da ricevere la sua parola ecco si arriva tutto questo è come se fosse un insieme di momenti e di stati del nostro cuore che quasi costruiscono il trono per il Signore cioè il Signore quando noi facciamo sgorgare il nostro tehillah il Signore ha un luogo nel quale dimorare e quando il Signore dimora in un luogo sappiamo che Egli è il Re vuol dire che Lui si siede sul trono e quando il Re è seduto sul trono il Re decreta il Re ascolta e decreta ecco questo è ciò che accade nel momento in cui noi lasciamo che questo canto nuovo esca da noi mi sembra che abbia una importanza fondamentale tutto questo in relazione a cosa? al nostro compito compito non inteso in senso di compito scolastico cioè fare qualcosa per avere un voto ma compito come incarico connaturato alla nostra natura e al nostro scopo come ho detto prima il nostro incarico è sacerdotale e regale nella scrittura nel Nuovo Testamento Pietro dice siamo una nazione di sacerdoti regali siamo sacerdoti e Re insieme ed è una cosa questa che è detta e descritta più volte anche nel Vecchio Testamento dunque che vuol dire? lo ripeto ancora una volta noi con la nostra lode apriamo diciamo un ponte ci avviciniamo alla presenza del Signore entriamo alla sua presenza e quindi possiamo offrire questa nostra lode come sacrificio gradito a Dio si ristabilisce una una comunione particolare e intima per cui il Re può decretare sedendosi sul suo trono sul canto nuovo dei suoi fedeli e governare sulla terra attraverso di loro perché li riempie del suo spirito li riempie della sua parola che si realizza per la grazia che viene loro conferita grazie allo Spirito Santo vedete come è tutto fluido cioè è una cosa infallibile è infallibile e la scoperta che proprio il nome che ci siamo dati canto nuovo ha questa potenza come momento quasi di consumazione di un processo di lode di apertura all'adorazione e sviluppo del compito sacerdotale regale è qualcosa noi non avevamo idea quando ci siamo dati questo nome che avesse queste implicazioni abbiamo scoperto strada facendo solo qualcuno più esperto di noi nella fede sentì che ci volevamo chiamare il canto nuovo subito pochi giorni dopo il nostro battesimo nello spirito e noi non sapevamo cosa voleva dire ci venne in mente a più di noi contemporaneamente anche in momenti diversi in luoghi diversi insomma poi ci consultammo canto nuovo nella Bibbia leggevamo ci veniva sempre questo canto nuovo davanti agli occhi risaltava allora si disse chiamiamoci canto nuovo ma non sapevamo in realtà e chiedemmo ma che vuol dire canto nuovo e questa persona ci disse vuol dire lode cioè Dio fa tutto bene sempre ecco queste furono le prime parole che ci furono dette su questo nome e mi sembra tutto un programma per l'incarico che Dio ci ha dato ve lo vogliamo lasciare anche come testimonianza che resti anche per chi non ci conosce e sappia insomma qual è stato un po' il nostro svolgersi in questi anni Tehillah ricorda e riporta al termine di novità che vuol dire guardate Isaia dice non ricordate più le cose passate non considerate più le cose antiche quindi un invito a non guardare indietro quanto abbiamo bisogno di tutto questo noi perché ogni volta che c'è qualcosa di nuovo non ce lo godiamo di fondo perché cominciamo a guardare indietro a come è andata le altre volte a cosa è successo e tutto il resto dice ecco io sto per fare una cosa nuova vedete l'ho sottolineata non è sottolineata è messa in grassetto nuova una cosa nuova come canto nuovo essa sta per germogliare non la riconoscete allora non è una cosa nuova che si vede ma sta per germogliare quindi ancora non si vede io sto per fare è sorprendente come in Isaia il Signore ci dica ma come non riconoscete che sto per fare qualcosa che ancora non vedete ma che io ho promesso che farò ma come non vi accorgete che io prometto e mantengo quello che prometto sto per farla questa cosa nuova Gesù ha parlato poi dei segni le cose che ancora non sono ma che stanno arrivando sono preannunciate da segni chiari ecco questo è il senso dunque noi credenti fiduciosi in Lui siamo chiamati a vedere i segni dei tempi ad ascoltare lo spirito quello che dice alla Chiesa e riuscire a comprendere quando dove come Dio sta facendo una cosa nuova nella nostra vita nella nostra comunità nel nostro nella nostra famiglia cioè non ti accorgi che vuol dire ci vuole fiducia qual è la fiducia quella che Dio ti ha dato per cosa per credere anche se non vedi perché Lui dice non te ne accorgi io già la sto facendo non la vedi ancora sta per germogliare ma arriverà perché l'ho promesso e guardate sì io aprirò qual è la cosa nuova io aprirò una strada nel deserto farò scorrere dei fiumi nella steppa attenzione che attenzione lo dico a me non a voi nel senso che non voglio che mi passi e cioè la ecco invece mi è passata ma guarda un po' più che mi è venuto mi sono detto anche attenzione allora allora sì dice mi verrà sì io aprirò una strada nel deserto farò scorrere dei fiumi nella steppa quindi qual è la cosa nuova che il signore fa nella vita di noi tutti i giorni che noi se la vedessimo con gli occhi dello spirito prima di volerla vedere con gli occhi fisici tanto per non fare come Tommaso noi potremmo essere sicuri che Dio finisce sempre quello che comincia quello che lui comincia comincia nell'invisibile e poi si vede nel visibile come si può pretendere di credere solo dopo che si è visto ormai è venuta in esistenza la fiducia non ha più senso non ha più come fai a avere fiducia che qualcuno manterrà le sue promesse solo dopo che l'ha mantenute ma non non ha senso e allora come si fa a dire ma io signore non credo finché non vedo molti cristiani dicono così uno fu Tommaso Gesù disse beati quelli che pur non vedendo crederanno ci avranno fiducia perché perché la fiducia serve nell'attesa che la promessa sia mantenuta a rimanere nella sicurezza che l'altra persona è fedele ecco quindi insomma Dio finisce sempre quello che inizia lo inizia nell'invisibile e finisce nel visibile e questa cosa qui aprirà una strada nel deserto qui potete pensare a tutto quello che ci serve nella nostra vita e farò scorrere dei fiumi nella steppa sapete l'acqua che scorre l'acqua viva l'acqua corretta è figura dello Spirito Santo scorre nel deserto scorre nella steppa cioè nei luoghi aridi cioè il mio spirito scorrerà abbondantemente vedete qual è la novità la novità è questa la promessa dello Spirito Santo guardate ancora le bestie dei campi gli sciacali gli struzzi mi glorificheranno cioè tutta la creazione quando lo Spirito Santo scorrerà mi glorificherà perché avrò dato l'acqua al deserto fiumi alla steppa per dar da bere al mio popolo a quelli che mi sono scelto questa è la promessa dello Spirito Santo cioè questo la vedo io così almeno credo che sia abbastanza evidente ma consideratelo quindi lui dice sto per fare una cosa nuova non ve ne accorgete io l'ho promesso lo sto facendo ancora non si vede sta per germogliare ma è già fatta per me la vedrete lo Spirito Santo verrà dato e quando arriverà lo Spirito Santo tutta la creazione gioirà perché ho messo l'acqua che scorre nel deserto succhi sul mio popolo per dargli da bere per dissetarli guardate ancora verso 21 il popolo che mi sono formato proclamerà le mie tehillah io mi sono formato un popolo lo voglio inondare del mio Santo Spirito e me lo sono formato e creato perché canti a me un canto nuovo questo è il risultato dello Spirito che viene immerso nel deserto e nella steppa me lo sono formato perché perché siano sacerdoti e re su questa terra pieni di Spirito Santo e facciano vedere quello che io ho iniziato nell'invisibile dove? sul visibile allora è la novità del canto nuovo è svolgere il nostro incarico di sacerdoti e re su questa terra non è solo cantare una canzone spirituale al Signore quello è il momento intimo l'apice di un momento intimo con Lui ma in realtà stiamo svolgendo quello perché è uno stato del nostro cuore te in là è legato a vittoria non solo la novità di vita rappresentata dallo Spirito Santo nel deserto della vita degli uomini senza di Lui ma anche alla alla vittoria il Salmo 66 dice fate acclamazioni cioè sono questo questo termine ruà questo fragore di grandi cascate si legge nell'Apocalisse gente questa gente in cielo che lo dava Dio lo dava Dio era un fragore di grandi cascate un rombo di tuoni possenti insomma ruà voi tutti abitanti della terra ecco qui non si riferisce però a altri se non quei vivi che stanno sulla terra cioè dice aprite quella bocca e gridate il mio nome invece di solito ora questo lo dico per l'antitesi è che proprio tra i credenti tra i cristiani si trova molta gente che non crede che aprire bocca e gridare il nome del signore gridare o pronunciare a voce alta fare un rumore festoso fare gioia festa le cose si sentono allo stadio insomma verso di lui sia una cosa fattibile pensano che soltanto un composto e meditativo silenzio sia l'unico modo per rendere onore a Dio con i nostri pensieri silenziosi ma io non sto dicendo fate male io non dico niente di questo io dico invece che il signore ci chiede di fare acclamazioni battere le mani esaltarlo invocarlo capite è una cultura tutta diversa qualcuno direbbe come la differenza tra stare in una chiesa in uno stadio allora in questo senso potremmo dire che c'è qualcosa che non va qualcosa tra di noi quindi ecco questa nuova nuovo addestramento alla cultura salmo 34 io benedirò dice barac quindi è come mettersi in ginocchio io benedirò il signore in ogni tempo ora non è che io in ogni tempo più volte anche qui abbiamo detto che quando noi leggiamo la bibbia facciamo affermazioni al signore signore io ti loderò sempre e un angelo scrive ha detto io ti loderò sempre se tra tre minuti il tuo cuore non è nello stato di lode dice va messa alla prova questa cosa non so se mi spiego io ti loderò sempre e qui si dice io se anche in ogni tempo non posso essere o in ogni stagione può voler dire in ogni momento della mia vita ma quando arriva il momento se non è sempre non sempre ti puoi mettere in ginocchio ma dentro di te la tua anima la tua persona può essere in uno stato del cuore come se fosse in ginocchio davanti al signore la superbia ci pone fuori dalla 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 la cultura del regno dei sceli ecco dice io ti benedirò signore in ogni tempo la sua lode te in là sarà sempre nella mia bocca ora appunto sono affermazioni molto molto forti che vogliamo però considerare ecco la potete eliminarli grazie eliminarli grazie ecco due cronache 21 4 dopo questi fatti i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Maoniti macciarono contro Josafat per fargli guerra qui siamo a un episodio piuttosto importante perché c'è una guerra mossa contro il popolo eletto quello che abbiamo detto scelto che Dio sia scelto perché canti le sue lodi e qui Josafat è il re del popolo scelto dal signore dalle israeliti e ci sono dei popoli nemici che vogliono venire contro di loro contro di lui e Josafat riceve l'informazione e dei messaggeri vennero e dissero una gran moltitudine quindi insomma tanti soldati vengono contro di te dall'altra parte del mare dalla Siria cioè da altri posti e qui è fatta menzione di questo che Josafat ebbe paura e allora quando ebbe paura che fece si dispose a cercare il Signore questa cosa mi ha talmente colpito perché sono andato a vedere nel libro della Genesi quando al contrario Adamo ebbe paura e si nascose è un atteggiamento del cuore parecchio diverso siccome ebbe timore e non era una paura diciamo uno stato d'ansia generalizzato che se andava in un ospedale di oggi si diceva in un attacco di panico Josafat no questo è cioè il pericolo c'era e la paura era esattamente congrua adeguata alla situazione perché c'era una moltitudine e il fatto della guerra era un fatto futuro quindi il pericolo c'era la paura era adeguata e nella paura nell'avvertimento che c'era un pericolo che fa Josafat non si nasconde ma si dispone a cercare il Signore e non solo lui così tutto tutto Giuda vedete tutto il regno tutte le persone si riunirono per implorare aiuto al Signore il mio aiuto viene dall'alto perché quando non posso fare altro io come dice il Salmo a chi chiederò aiuto chi mi darà aiuto se non te Signore che sei nell'alto a te alzo le mie mani ecco e quindi vengono tutti gli abitanti del regno a cercare il Signore insieme al Re si stringono tutti insieme nella paura di quello che era l'imminenza di un'annunciata battaglia difficile e mentre stavano lì cercando aiuto dal Signore lo spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea uno di loro il Caziel un certo il Caziel fu investito dal Signore dallo spirito di Dio e questo disse porgete orecchio voi tutti di Giudea e voi abitanti di Gerusalemme tu o re Giosafat e tu o re Giosafat insomma così vi dice il Signore non temete loro avevano paura di una cosa in modo adeguato di un pericolo futuro dice non temete non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine poiché questa non è battaglia vostra ma di Dio ecco domani scendete contro di loro eccoli vengono su per la salita di Sis e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel cioè dice come posizionarsi in relazione a come sarebbero venuti contro di loro i nemici sentite Dio è preciso e poi dice non avrete bisogno di combattere questa battaglia prendete posizione rimanete fermi e vedrete la liberazione del Signore che è con voi o giù da Gerusalemme scusate qui la slide ha saltato qualche piccola parola non temete non vi perdete d'animo domani uscite contro di loro perché il Signore sarà con voi quindi c'è un incoraggiamento un esortazione a non temere andare incontro prendere posizione ma non combattere anche questo insomma in quella situazione insomma mettiamoci un po' nei panni di questa gente non era proprio insomma adatta secondo un criterio un giudizio umano no? cosa successe allora a quel punto i leviti si alzarono per halal per lodare a gran voce il Signore Dio di Israele la mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia mentre si mettevano in cammino Giosafat stando in piedi disse ascoltatemi o Giuda e voi abitanti di Gesù e Tareme credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro credete abbiate fiducia nei suoi profeti aveva parlato quello il giorno prima dicendo non abbiate paura e trionferete dopo aver consultato il popolo incaricò ecco qui un altro controsenso non solo non combattete ma anche metti i musici alla testa dell'esercito incaricò alcuni che cantassero al Signore e lodassero halal la bellezza della santità e uscirono in testa l'esercito chi? quelli che cantavano e proclamavano celebrate cioè Yadah il Signore perché la sua bontà dura in eterno quando cominciarono i Tehillah cioè che dal loro cuore cominciò a sgorgare un canto nuovo al Signore il Signore tese un'imboscata ai loro nemici e questi rimasero sconfitti perché cominciarono ora leggete poi da voi leggerete successivamente non sto a leggere tutto cominciarono a combattere essere confusi combattersi a vicenda insomma e furono tutti sconfitti quando è che arriva la vittoria vedete Tehillah vittoria quando arriva quando preparata con la profezia con la ricerca del regno di Dio del Signore della sua influenza e l'ascolto della parola di Dio la fiducia in Dio ecco che a quel punto quando sgorga il canto nuovo la vittoria è assicurata perché su quel canto nuovo si siede il Signore decreta sconfitta per i nemici sono confusi e sbaragliati ecco tutto questo ci fa vedere come noi possiamo questa è la parte slovacca ecco scusate non l'avevo girata prima possiamo applicare questa questi principi di funzionamento alla nostra vita nei confronti dei nostri nemici che non sono uomini cioè persone di carne di sangue ma come dice Paolo appunto sono spiriti maligni che abitano le regioni celesti quindi quando è che noi riportiamo la vittoria quando mettiamo in atto la strategia di Dio e lasciamo a lui combattere la battaglia la strategia di Dio qual è? quella di disporsi cantando al Signore e facendo sgogare un canto nuovo combattendo il nemico in questo predisporre il campo di battaglia in questo modo molte volte poi abbiamo detto insegnato su come combattere questa battaglia contro gli spiriti maligni ci sono molte ore di registrazione sul nostro sito potete vederle tutte ma in questo in questo caso è come preparare il terreno del nostro cuore e l'ambiente nel quale viviamo a che la vittoria di Dio sia manifesta e si veda questa ultima parola Dio sei la mia lode è l'ultima slide che ho vedete egli è la tua lode cioè qui usano ancora tehillah ed è il tuo Dio che ha fatto queste cose grandi e degne di ammirazione che i tuoi occhi hanno visto cioè egli è la tua lode egli è il tuo canto nuovo che vuol dire è l'oggetto del tuo canto nuovo vuol dire questo è il soggetto l'oggetto è il protagonista del tuo canto nuovo perché non solo rivolgi a lui il tuo canto nuovo e sono esaltazioni delle sue qualità ma anche lui si siede su quel canto nuovo e quel canto nuovo diventa lui seduto sul trono in tuo favore vorrei qui concludere ancora facendo riferimento a quello che ho iniziato e cioè quando ho detto che Dio finisce sempre quello che inizia volevo però prima prendere la parola riportata dal profeta Sofonia al capitolo 3 verso 17 perché è interessante quello che troviamo qui e ci fa sapere che cosa è questa gioia del Signore al verso 17 del capitolo 3 di Sofonia che parla appunto di canti di gioia per Gerusalemme della vittoria del Signore della sua redenzione la vittoria sul nemico e la redenzione dalla dalla situazione di schiavitù ecco dice al verso 17 il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente gioirà per te ti rinnoverà con il suo amore esalterà esulterà per te con grida di gioia ora io dico ci sono molte persone che prendono la parola di Dio come una cosa sempre figurata qualcosa che va sempre ad essere oggetto di speculazioni ma no qui la parola è chiara cioè grazie alla nostra liberazione operata da Dio stesso qual è l'atteggiamento cosa fa Dio con noi quando lui viene in mezzo a noi quando noi lo odiamo e un canto nuovo esce dal nostro cuore e dalla nostra bocca che fa Dio in mezzo a noi lui si chiama Emanuele Dio con noi Gesù ha detto io sono qui e sarò qui in mezzo a voi quando due o tre sono riuniti tra di voi sentite ancora che fa lui quando viene in mezzo a noi lui il salvatore potente gioirà per te ti rinnoverà con il suo amore e ancora esulterà per te con grida di gioia pensate pensate a questo Dio un re potente seduto sul nostro canto nuovo che si mette a saltare urlare gridare di gioia per noi fa il tifo per noi è quello che è quello che poi lui dice fatelo con me per me e io lo faccio per voi perché io ho iniziato insomma sembra quasi una cosa un po' strana per qualcuno Dio che salta danza sulle tue lodi e grida di gioia per te facendo il tifo perché tu rinnovato nel suo amore possa svolgere il tuo incarico di resta cerdote su questa terra Dio è il nostro più grande tifoso il cielo aspetta che noi ci muoviamo affinché si realizzi la volontà di Dio su questa terra ecco come ho detto come ho detto Dio finisce sempre quello che inizia dunque siccome nella nostra vita in molti casi noi abbiamo avuto abbiamo visto degli inizi di cambiamento poi ci siamo a volte fermati a volte le persone si sdanno cioè non arrivano in fondo perché allora nel processo quando ti sembra che qualcosa non arriva in fondo sappi che Dio finisce sempre quello che inizia guardate voglio ora non voglio non voglio dedicarci ulteriore tempo vi sto solo invitando ad usare questa chiave potente per l'accendere questo motore del piano di Dio nella nostra vita le cose che Dio inizia Dio finisce se a metà perché non vediamo ancora non abbiamo fiducia che quello che lui ha detto si realizzerà noi stiamo spegnendo il motore da soli quindi la fiducia e la lode che è un rilascio di fiducia praticamente rimettono in moto il motore e consentono a questo piano di Dio di realizzarsi nella nostra vita lui finisce quello che inizia dice Dio io porto sempre a termine quello che ho iniziato sempre non c'è mai una volta lascia una cosa a mezzo mai quindi mi sembra una riflessione molto importante questa che può forse aiutare molti ecco non permettere dunque a quello che è il piano di Dio per la tua vita di essere schiacciato dalle difficoltà temporane e Dio non dice che lo finisce e basta ma lo finisce anche molto bene insomma perché il suo piano è perfetto vorrei concludere con Filippesi 1-2 non c'è la slide quindi la dobbiamo prendere la leggerò Filippesi capitolo 1 ecco verso 2 il verso 1 inizia con Paolo e Timoteo servi di Cristo Gesù che sarebbe vorrebbe dire servi del Messia che è Dio che salva tradotto letteralmente e tutti i santi nel Messia che è Dio che salva che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi e poi verso 2 dice questo era il saluto l'apertura il verso 2 dice grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e del Signore Dio che salva il Messia che è il Messia cosa vuol dire questo grazia e pace guardate un po' al verso 2 dice grazia e pace allora molte volte abbiamo parlato di grazia durante questa questa serie e anche di quella grazia come dire quando Gesù è seduto sul suo trono stasera sappiamo sulle nostre tehillah sul nostro canto nuovo lui decreta favore nei nostri confronti ma non è che non l'abbia decretato soltanto noi siamo andati lì alla sua presenza ci siamo sottomessi a cosa al suo favore tutti pensano che sottomettersi a Dio voglia dire diventare dei burattini degli schiavi che eseguono qualcosa no sottomettersi a Dio vuol dire ricevere il suo favore perché se te stai sopra messo a Dio cioè sei superbo non puoi ricevere quello che viene dall'alto perché pensi di essere più in alto di quello che viene dall'alto è una questione pratica allora grazia e pace la grazia non è però soltanto il favore ascoltate molte volte l'ho detto e lo ribadisco è il favore detto così in modo semplice la grazia hanno scritto e parlato per secoli e grazie a Dio hanno scritto tanto non voglio quindi sminuire o semplificare ciò che invece è densissimo voglio solo dire che grazia vuol dire favore c'è una cosa data gratuitamente come favore come dono e favore ma vuol dire anche guardatelo sotto questo profilo è quel dono quel favore che attiva l'abilità nella persona che riceve il favore cioè non è solo ti do il mio favore qui mi si accende sempre qualcosa ti do il mio favore e con quello dice devi essere contento no la grazia cioè il favore del re nei confronti di un cittadino del suo regno è tale per cui impartisce ti dà la capacità di fare quello che il re ti chiede questa è la grazia attiva in noi la grazia il dono gratuito del favore del re attiva in noi la capacità di fare quello che il re ci chiede molte volte io sento dire ma ripeto molte volte e lo capisco molti dicono sì va bene la giustizia di Dio fare la sua volontà ma come come è possibile perché magari ecco con le proprie con le nostre forze noi non riusciamo a fare cioè abbiamo bisogno della sua grazia del suo favore regale e quello non lo riceviamo se non siamo sottomessi a lui e fine qui va bene ma ora il nuovo principio che voglio inserire è questo tutto ciò che il re chiede ai suoi familiari quindi a noi ci dà anche la capacità di farlo perché se chiedesse cose senza darci la capacità di farlo saprebbe che siamo incapaci e quindi sarebbe un re poco furbo perché i cittadini del suo regno sarebbero per sua stessa volontà degli incapaci e dei ribelli perché non mettono in pratica le leggi del re cioè è quasi intuitivo è quasi normale quindi dare la capacità è come se se chiedessero delle tasse altissime senza dare la capacità retributiva al cittadino per pagarle forse è quello che succede oggi va bene capite capite perché noi non siamo di questo mondo perché nel nostro regno il nostro re siccome la sua gloria dipende dalla gloria che manifestano i suoi cittadini il nostro re non solo ci dà favore cioè è con noi fa tifo per noi dalla nostra parte ma ci dà la capacità di rispondere alle sue aspettative voglio fare un inserimento su questo un secondo per fare un esempio perché che non è lontano è un fatto accaduto a me quando io incontrai Gesù nel 2000 perché di questo si tratta che appunto quel momento lì ha cambiato radicalmente la mia vita che cosa vuol dire in pratica io ero impiegato e facevo un lavoro da impiegato tecnico del computer ma e suonavo per continuamente no facevo facevo queste due cose dopo che ho appunto incontrato Gesù la mia vita è cambiata radicalmente che cosa vuol dire ho scoperto qual era il mio scopo e che Dio aveva un piano per me io ho cambiato modalità allora ho capito che Gesù non solo era il mio miglior amico ma anche il re e che aveva il potere su tutte le cose quindi sottomettersi vuol dire che purtroppo in pochi lo comprendono ma vuol dire e questo per me è una scoperta importante che lui era quello più forte quello che aveva vinto quando uno comprende questa cosa ha capito tutto perché quando si è capito che Gesù è quello è quello forte è quello più forte passi dalla sua parte sottomettersi vuol dire questo Maurizio ha detto sottomettersi non è come il concetto secondo il concetto di Gesù che che è Dio non ha il concetto di sottomettiti a me che ti stiaccio no vieni da me che io ti proteggo sono quello più forte e questo vuol dire numero uno sottomissione vuol dire essere così furbi così svegli da comprendere che lui è quello che ha vinto e che quindi si tratta di fare uno spostamento numero due io dopo un po' di anni pochi anni ho capito il mio scopo era scrivere la musica per lodare Dio perché il regno dei cieli si espandesse sulla terra quindi la mia creatività e tutto quello che avevo doveva andare in questa direzione non avevo nessuna risorsa finanziaria economica e facevo un lavoro che frustrava questa cosa ho fatto sei dischi faccio solamente questo nella mia vita e sono felice perché il mio re colui che mi difende mi ha dato tutto quello che mi serve per far avanzare la cultura del regno dei cieli per mezzo della lode quindi non vi sto raccontando qualcosa che ho letto sul libro qualcosa che che quando nella vita abbiamo capito che lui è il re cioè che quello che ha vinto quello forte diciamo ok poi da lì in poi si svolge tutto sotto vostri piedi è un po' questo il canto nuovo il canto nuovo cioè quel canto che dice Dio fa tutto bene sempre perché poi il il piano di Dio si sviluppa si prendi lo scopo vai lui ti darà tutto quello di cui hai bisogno per poter raggiungere lo scopo dunque cari amici se abbiamo delle difficoltà immaginare come possiamo attuare la giustizia cioè come possiamo essere retti fare quello fare la volontà di Dio su questa terra che è poi la preghiera di Gesù sia fatta la tua volontà qui in terra come in cielo quindi se abbiamo questa difficoltà sappiamo che nella lode e nell'adorazione noi riceviamo questa grazia e lo spirito santo che si attiva in noi che è che ci dà la capacità di fare quello che Dio vuole per i motivi che ho già spiegato prima dunque noi possiamo funzionare secondo la misura che Dio ci dà in base a quello che lui ci chiede quando noi abbiamo fiducia nella grazia che ci è stata data quella è la fede allora ora eravate un po' distratti forse spero non anche a casa ma ascoltate bene quando allora quando noi mettiamo fiducia nella grazia nella capacità che ci viene data da Dio per realizzare la sua volontà su questa terra quella è la fede di cui parla Gesù e il Dio ecco voglio dire quindi ognuno ha una misura di fede perché tutti hanno una misura di grazia dunque se a tutti è data la capacità di essere retti la nostra fiducia sta proprio in questo nel sapere che Dio è buono e ci dà sempre tutto ciò che ci serve per rispondere alle sue aspettative nel vecchio testamento lo dice chiaramente ripetuto poi nel nuovo siate santi perché io sono santo cioè come potrebbe dire una cosa del genere come potrebbe dire Gesù siate perfetti come è perfetto se poi non ti desse la capacità noi possiamo non avere fiducia in quella grazia e peccare esatto ma lui è morto per noi ha versato il suo sangue perché ci ha ottenuto il perdono dei nostri peccati se la nostra è disobbedienza mancanza di fiducia e non ribellione che vogliamo essere al posto di Dio cioè non guardate il passato guarda il pentimento del cuore ci rimette in una posizione di poter riesprimere la nostra lode e ristare la sua presenza quindi ora non voglio entrare nell'aspetto peccato pentimento perdono ho solo fatto l'esempio per dire per aiutare incoraggiare le persone a uscire dalla prigione del non potrò mai fare la volontà di Dio perché non sono in grado questo non corrisponde alla cultura del regno dei cieli è un inganno del mondo quindi satanico che noi non siamo capaci siamo capaci perché lui ci dà la sua grazia e al verso 6 della stessa lettera ai filippesi capitolo 1 voglio leggere anche versi 3 4 e 5 guardate dice dopo aver detto grazia a voi vedete grazia a voi e pace perché nella fiducia nella grazia sta la pace dell'uomo cioè nell'aver fiducia che siamo capaci di essere chi siamo ci sentiamo in pace rendo grazie dice Paolo al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia a causa della vostra cooperazione per la buona notizia del regno dei cieli il Vangelo è la buona notizia del regno dei cieli dal primo giorno fino ad oggi avete sempre cooperato per diffondere la buona notizia del regno dei cieli e io quando prego per voi lo faccio sempre con gioia e poi dice al verso 6 ecco con questo chiudiamo sono persuaso Paolo l'apostolo Paolo sentite sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno del messia Dio che salva vedete quello che ha iniziato lo porterà in fondo perché perché è Dio quindi sentite proprio nella lettera ai filippesi che questo ci viene ricordato cioè non lasciare a metà l'opera perché Dio non lo fa confida nella grazia che lui ti dà e lui porterà a compimento in te l'opera sua che ha iniziato quindi questo è un incoraggiamento ad avere fiducia nella grazia e nel sapere che questa grazia ne siamo continuamente riempiti nel momento in cui abbiamo quello cuore di lode e questo tehillah esce dalla nostra bocca bene con questo ho concluso la sessione di stasera la prossima volta Fabrizio ci ha promesso una sessione sulla lode in relazione alla musica ecco mi sta dicendo che non c'è lui la volta prossima quindi Dio finirà l'opera buona che ha iniziato e quindi con questo ecco è un'esaltazione per tutti noi non aspettiamo a vedere il germoglio sbocciato per dire ah è vero il seme aveva il potenziale mettete fiducia nella capacità che il re ci dà nel momento in cui il nostro cuore è sintonizzato con il suo bene con questo vi salutiamo e vi ringraziamo canto nuovo tehillah sulla bocca di coloro che hanno fiducia nel messia un caro saluto a tutti da Siena canto nuovo grazie a tutti